Pur tra qualche mugugno e resistenza si va verso il Sì per il senatore Marco Marsiglio come candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali del prossimo 10 febbraio. Ad indirizzare la coalizione verso il nome del senatore di Fratelli d'Italia è stato un incontro tenuto a Roma fra lo stesso Marsiglio e la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in cui si è parlato proprio della questione Abruzzo. Una conferma in diretta del Sì per Marsiglio è arrivata anche dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che nelle ultime ore aveva parlato di trattative concluse per i candidati presidenti in Piemonte, Sardegna, Basilicata e appunto Abruzzo. Ora però bisognerà attendere le risposte ufficiali dei coordinatori regionali di Lega e Forza Italia Bella Chiome Pagano che a più riprese nelle scorse settimane avevano espresso perplessità sulla candidatura di Marsiglio ma il tempo stringe e dentro il weekend in un modo o nell'altro bisognerà scrivere la parola fine. Nel centro-sinistra ormai si cura la discesa in campo dell'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini che dopo il documento in suo favore firmato da 162 sindaci prosegue la serie di incontri con amministratori locali. Fra i primi ad incontrare Legnini il sindaco di Teramo Gian Guido d'Alberto. In pieno fermento anche la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle a sostegno della candidata presidente Sara Marcozzi tornerà in Abruzzo il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio che alle 16 di domani sarà a Pescara presso la sede della Camera di Commercio in Viale Conte di Ruvo per incontrare imprenditori del territorio ed ascoltare le loro istanze. In serata le 19 di maio sarà a Villa Figliani di Pineto e poi alle 21 nuovamente a Pescara per assistere al Teatro Massimo allo spettacolo di Beppe Grillo.